Sul campo, su tutti i campi, Pasolini però non dà un'idea di scissione. È un piacere vederlo giocare impegnato, coinvolto. Rino Marchesi, allora calciatore, lo incontra un giorno, un amichevole per beneficenza, una delle tante a forte dei marmi. Mentre Sandro Ciotti brontolava tutta la partita, vagando per il campo arrabbiato perché nessuno gli passava la palla, Pasolini era sempre nel vivo del gioco, sempre attivo. Avevo l'impressione che fuori dal suo ambiente si esprimesse molto di più, insomma si vedeva che voleva mettere alle spalle i suoi travagli. E il giudizio si sposa con le parole di Franco Citti. Dopo le partite si ammusoniva di nuovo. Era come se all'improvviso cadesse un velo su tutto. Finiva l'esaltazione, il momento magico che lo faceva ritornare come un ragazzino a sorridere e a ridere. Finita la tensione del gioco, rientrava nella sua bolla di vetro, nei suoi silenzi, scaldandosi solo se i commenti sulle azioni fatte durante la partita sul terreno di gioco non gli tornavano. Grondanti di sudore e sporchi di terra e fango, ci infilavamo sotto le docce e lui ritornava a essere solo. Immediatamente si ritrovava ad annegare nei pensieri e nei problemi che non raccontava mai a nessuno. Quando si usciva dagli spogliatoi, arrivava sempre per ultimo. Sembrava un pulcino bagnato che per sbaglio si è trovato all'aperto, lontano da un riparo, mentre scoppiava il temporale. Il Pasolini con la maglia azzurra e il numero 11, ma anche il 10, tant'è che molti compagni se lo ricordano più mezzala che alla sinistra, comincia a Palestrina, meno di un'ora di macchina da Roma. Per la verità si giocherà qualche volta anche con il giallo del Brasile di Pelè, omaggio allo spettacolo che la squadra vuole offrire e alla fissazione di Giacomo Ciarlantini, agente cinematografico, allora animatore e archivio vivente di quell'avventura. I nomi li slocciola a memoria Ciarlantini. Pasolini, spiega, preferiva giocare di giorno perché ci vedeva poco senza occhiali. Di notte si sentiva a disagio e perdeva la visione complessiva del gioco. Era instancabile e generoso. Non l'ho mai visto insultare un avversario. Diceva sempre che una partita di calcio era come un mese di vacanze. Grazie a tutti.